Vi diamo il benvenuto e cominciamo con la prima domanda dalla nostra piattaforma. Prego. Pier, buongiorno. Andrea Pesenzoni, Juventus.com. Ti do il benvenuto ancora e ti chiedo come sono andati questi primi giorni, quali sono le tue sensazioni, le tue emozioni. Hai anche giocato qualche minuto, insomma, raccontaci un po'. Grazie. Buongiorno e grazie. Le mie prime sensazioni sono molto buone. Ho trovato un gruppo molto accogliante, che mi hanno accogliato molto bene. Abbiamo anche vinto, allora è sempre meglio per iniziare. Allora mi sento bene. Ciao Pier, Marco Venditti, signore Mia Calcio News. Benvenuto. Ecco, cosa pensi di poter dare alla Juventus dopo la tua esperienza comunque in Italia, che è stata un'esperienza assolutamente positiva? Ti sei ambientato, ti piace l'ambiente sicuramente. Cosa pensi di poter dare di tuo a questa squadra? Grazie. Buongiorno. Che cosa penso apportare alla squadra? Io vado a provare di dare già il mio massimo, di apportare le mie caratteristiche. si può che sia difensivamente, con energia, velocità. E poi dare tutto che può dare alla mia esperienza che ho avuto prima. Dare questa motivazione, questa energia di vittoria. Buon pomeriggio Calulu, Simone Nasso, oggi Sport Notizia. Il mister ti ha voluto fortemente per alcune tue caratteristiche tecniche, per la capacità di ricoprire più ruoli. Ma quanto ha inciso la presenza di Tiago Motta e la sua idea di calcio nella tua decisione di trasferirti alla Juventus? Grazie. Ciao. Già, come l'hai detto Teo, ho visto il mister, come ha fatto con le sue squadre precedenti, che hanno avuto un bello gioco. Poi la sua importanza era fondamentale, perché anche quando l'ho avuto che si era telefonata prima, ho avuto qualcuno che aveva una volontà di miare, come vedo la squadra anche adesso che sono dentro il gruppo, vedo una squadra che sta veramente insieme, che gioca insieme, che ha la volontà di avere un bello gioco, ma anche avere questa aggressività sul campo che mi piace anche. Ciao, Pier, buongiorno. Marco Paridon, Juventus News 24, benvenuto. Ti chiedo, hai vinto uno scudetto da protagonista col Milan, guardando un attimo le facce nello spogliatoio, l'atmosfera che si respira qui alla continenza. Ti chiedo se questa squadra è da scudetto, può competere per il titolo. Grazie. Già, grazie per il proprio protagonista. Sì, già come vedo quella squadra, come abbiamo iniziato anche bene queste partite, è solo che è una squadra che guarda ogni partita per fare bene, per vincere ogni partita come succede. poi siamo all'inizio e proviamo a fare il meglio possibile per noi e anche per i tifosi e per questa società che è molto grande. Ciao, Pier, buongiorno. Sono qui. Ciao, benvenuto. Volevo chiederti, sei nella tua piena maturità calcistica dal punto di vista dell'età che in questo momento hai. Credi che l'opportunità Juventus arrivi al punto giusto della tua carriera e cosa ti può offrire per il resto della tua carriera. Grazie mille. Scusami, puoi ripetere, per favore? Allora, sei in questo momento in un'età in cui sei nel pieno della tua carriera calcistica. Pensi che l'opportunità Juve sia arrivata nel momento giusto della tua carriera e cosa può offrirti questa opportunità qui? Grazie. Sai, io sono uno che crede molto in Dio e allora vuol dire che quando c'è un'opportunità che arriva dentro la tua vita per me arriva sempre al momento giusto e quando una società come la Juve arriva per te è sempre una grande opportunità di fare bene perché è una squadra che ha il... come si dice in italiano? Il... Tipo... la riflessione. Tipo che tutti guardano la Juve. È un esempio? Sì, tipo la Juve è una squadra che tutti guardano e che per me assolutamente è una grande opportunità di vivere. Ciao Pierre, benvenuto alla Juventus. Giorgio Musso di calciamercato.it Ti chiedo, se al ritorno dalle vacanze ti aspettavi di lasciare il Milan e se il tuo desiderio è quello di restare alla Juventus anche il prossimo anno. Grazie. Durante quest'estate se aspetti qualcosa lo sai mai lo sai mai che succede dentro la tua vita e anche di più dentro la vita di un cacciatore ma poi era per me anche una buona opportunità a prendere e anche a vivere ancora una volta. Daniele Galosso, Tutto Sport. Ti chiedo che ambiente hai trovato nello spogliatoio? Sei arrivato qualche ora dopo un 3-0, hai raccolto poi un altro 3-0. C'è una certa euforia per questo avvio di stagione? State vivendo con tranquillità e con consapevolezza dei vostri mezzi? Che ambiente hai trovato all'interno dello spogliatoio con i compagni? Come ambiente ho trovato giocatori che vivono bene, che piacciono avere qualche scarsante tra di noi e allora molto positivo, poi ho sentito una squadra che sa per che cosa hai lavorato prima allora non erano sorpresi di cosa è successo e solo il lavoro che hai fatto durante questa settimana che ho visto e come lavoriamo che è solo successo dopo allora non erano sorpresi ma solo quello giusto. Buongiorno, buongiorno Filippo Cornacchia alla Gazzetta dello Sport dei colpi che ha messo a segno per adesso la Juventus tu sei l'unico che ha vinto il campionato italiano con il Milan della rosa della Juventus attuale sei quello che ha vinto il campionato meno tempo fa perché quelli della Juve che l'hanno vinta l'avevano vinto prima del Milan con cui l'hai vinto tu allora ti volevo chiedere con Coop Miners, con Calulu, con Consei Sao, con Nico Gonzalez, con Douglas Lewis siete già pronti per vincere e senti la responsabilità di trasmettere uno spirito vincente visto che una rosa abbastanza giovane si è quello che ha vinto lo scudetto più recentemente? Già è sempre bene quando lo dici tu ma è una squadra che vuole avere un giocatore forte penso per essere competitivo in tutte le competizioni perché ci saranno tanti poi è vero che io ho vinto il scudetto pochi tempi fa ma dopo è il passato e per me non devi guardare indietro sempre avere quello che può succedere in avanti e poi vuol dire che sì vado a portare la mia esperienza ma poi è tutto da fare Ciao Pierre, Camillo Di Michelis, tutto mercato web, tutto Juve vieni da un'annata un po' difficile dal punto di vista degli infortuni quindi volevo chiedere come stavi e se ti senti pronto magari anche per partire titolare contro la Roma Sì è vero che l'anno scorso ho avuto un po' di problemi che può succedere dentro una carriera poi oggi mi sento bene, mi sento in forma e poi per questo weekend solo ho scelto dell'allenatore io mi vado a stare pronto per la squadra e poi ho scelto il mister Di nuovo Juventus.com Torno sull'aspetto emotivo, emozionale Domenica ci sarà la prima partita nella tua nuova casa che è questa evidentemente quali sono le tue sensazioni, le tue emozioni? Quanto aspetti questo evento? Sì, sai le prime volte in generale nella tua vita sono sempre molto un'emozione un po' eccitante si dice eccitante, sì eccitazione di vedere già il stadio pieno di vedere i tifosi e di avere questa sensazione che ti fa vivere noi giocatori avere tutto questo ambiente allora aspetto questo qua con eccitazione diciamo e sono come si dice? Presse Presse Se voglio avere questa sensazione più veloce possibile Più presto Più presto Sì Sì Perfetto Altre domande? Allora non vedo altre domande Invito il nostro managing director football Cristiano Giuntel a raggiungerci Buongiorno a raggiungerci Buongiorno a raggiungerci